Con 18 sì e 16 estensioni, il plenum del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano ha approvato nella seconda sessione di novembre la legge provinciale che modifica l'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata a primo firmatario Helmut Renzler. Essa introduce la cancellazione automatica del vincolo sociale, forme abitative innovative quali co-housing e soluzioni multigenerazionali, l'equiparazione dei conviventi ai coniugi l'istituzione di un fondo per coprire l'amorosità nell'ambito di un contratto di affitto, l'abbassamento a 20 del punteggio minimo per accedere alle agevolazioni. Quest'ultima misura è stata particolarmente apprezzata dai Freiheitlichen che se ne erano fatti i promotori in commissione legislativa. Molto discusso il tema delle microzone e dell'assegnazione apparenti dei fondi dati in esproprio al Comune. In generale, secondo le opposizioni, la norma non contribuirà a ridurre i costi dell'abitare. Per la SVP, che l'ha promossa, essa è una cornice da riempire di contenuti. Nel corso della sessione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio per il 2023 pari a 14,5 milioni e della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza provinciale presentata dalla Giunta, è stata data via libera anche alla proposta di Partito Democratico, Liste Civiche e Movimento 5 Stelle di impegnare il Parlamento italiano e il Governo ad introdurre dal 2023 l'ora legale per tutto l'anno in modo da permettere il risparmio energetico e ha la mozione al fine di contrastare il fenomeno del catcalling promossa dal Gruppo Verde e sottoscritta da SVP, Tim K, Freiheitlichen, Perspective für Südtirol, Südtirol e Freiheit, Lega Salvini, PD, Fratelli d'Italia, Forze Italia e 5 Stelle. Approvato anche il voto proposto dalla SVP al fine di invitare Governo e Parlamento a ridurre temporaneamente l'aliquota IVA sull'elettricità dal 22 al 5%.